Cambiamo argomento, gli accordi politici stipulati dalla regione Molise in materia di sanità favoriscono le strutture private accreditate. Il Movimento 5 Stelle si rivolge al ministro Roberto Speranza e alla Corte dei Conti. In Molise si consuma il lento e inesorabile processo di privatizzazione totale della sanità pubblica. Per Andrea Greco del Movimento 5 Stelle non è più tollerabile l'accordo con le strutture private accreditate sulla gestione del coronavirus. Pensare di poter pagare prestazioni non erogate per la semplice messa a disposizione di gemelli Molise e Neuromed e per il mantenimento dei gemelli organizzativi rischia di esporre l'amministrazione regionale a danni rilevanti che finiranno per favorire pochi privati convenzionati. L'esponente agnonese di opposizione prende poi le distanze dal decreto numero 26 del commissario ad acta Giustini. Non è più possibile il continuo depauperamento dei servizi sanitari nella rete pubblica e assistere alle contemporanee convenzioni con i privati, secondo le quali sarebbe riconosciuto il 95% del fatturato del primo bimestre di quest'anno a chi quelle prestazioni ospedaliere non le ha ancora erogate ai malati. Per queste ragioni Andrea Greco ha inviato una comunicazione al Ministro della Salute e Speranza, al Governatore Toma e inoltre alla Corte dei Conti.